segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te beh a parte che io non ci credo non credo al fatto che lei non abbia mai sentito insomma provato simpatia per i registi autoritari fascismo compreso non ci credo sarà un pregiudizio un posto giudizio però non mi sembra diciamo comunque ha fatto benissimo a dirlo è giusto era giusto che lo dicesse certo più che oggi dovrà dire qualcosa dovrebbe dire qualcosa ma saranno i fatti che conteranno i fatti gli atti del suo governo sarà la libertà 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 o sarà liberticida 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 ricardo la voce di le parole di giorgia meloni non erano voci nel deserto c'è stata fiuggi nel 95 ci fu so c'ero io a fiuggi ci fu fini che a gerusalemme all'inizio degli anni 2000 il fascismo male assoluto giorgia meloni è più figlia di quella storia rispetto a quella del movimento sociale italiano sì beh figlia di tutte e due i genitori di solito sono due un padre una madre diciamo che fini era la madre al mirante era il nonno mettiamo col nonno comunque io adesso non francamente diventa anche stucchevole dire misurare il tasso di fascismo o di non po di antifascismo di giorgia meloni crediamo gli ha detto che non ha non ha mai provato simpatia vicinanza nei confronti del fascismo quindi facciamo crediamo io facciamo pinta di credere insisto bisogna vedere che cosa farà perché se cominceranno a togliere per esempio io temo per due categorie sociali i migranti c'è i quali non riusciranno a sbarcare o se sbarcheranno verranno trattati molto male o rimpatriati con le brutte maniere c'è i transgender insomma e i gay la gente di identità sessuale diverse questi qui non sarà fascismo però sarà una restrizione delle libertà che col fascismo insomma allora andrea mancia è la destra che oggi